Come abbiamo detto spesso, anche in questa serie, il jazz è una musica dall'attitudine collettiva. Ogni musicista porta il suo contributo, personalità, innovazioni, esperienze, intuizioni allo sviluppo complessivo. E' ovvio, ci sono musicisti più influenti, Miles Davis, John Coltrane, per fare due esempi immediati. E ci sono anche musicisti che sviluppano una via del tutto personale, un modo di suonare che sembra a pulso d'arresto, che ha un'influenza strisciante sugli altri protagonisti e si può riascoltare in controluce. Don Pullen è uno di loro, un musicista dal valore universalmente riconosciuto, quanto poco noto al grande pubblico. E' stato capace di scrivere pagine originalissime e affascinanti. Il suo stile unisce ricerca e approccio personali allo studio e alla pratica delle tradizioni del blues e del jazz. Pullen è nato in West Virginia il 25 dicembre del 1941. Dopo una formazione classica e le esperienze con i cori e le band che accompagnano le funzioni religiose, ha iniziato a collaborare con i musicisti della scena free a metà degli anni sessanta, per approdare all'inizio degli anni settanta la corte di Chasmingus e registrare Moves e due volumi di Chains. La sua carriera solista comincia con l'uscita dal gruppo del contrabassista con le prime registrazioni a suo nome, sette titoli dal 75 al 79. Altre collaborazioni importanti sono quelle con il stassofonista George Adams e con la African-Brazilian Connection. Il quartetto a doppia guida con Adams è completato da Danny Richman alla batteria e Cameron Brown al contrabbasso. E' nato in seguito a una tournée da effettuare in Europa per diventare immediatamente una cosa solida per i quattro componenti. Il grande impatto delle esibizioni live del quartetto, l'unione tra i quattro musicisti e una musica capace di unire strutture e espressività, libertà e ironia hanno fatto sì che la formazione restasse unita e senza cambiamenti nella line-up fino al 1988, alla morte cioè di Danny Richman. Il quartetto ha registrato moltissimi dischi, la maggior parte per etichette europee e gli ultimi due per la bluenote. La loro musica, composta da Pullen, Adams e Richman, ha attraversato ad ampio raggio le varie stagioni del jazz, del blues, delle avanguardie, passando per il post vivo. In pratica la stessa attitudine sia pure in una dimensione più strutturata, sempre mantenuta dalla musica di Don Pullen. La African-Brazilian Connection, fondata nel 1990, è stata invece la formazione con cui il pianista è stato maggiormente esposto alla fama. Formata da Carlos Ward al sax alto, Nilsson Matta al basso e Guillem Franco e Mort Thiam alle percussioni unisce jazz, ritmi africani e sudamericani. Pullen è morto a soli 53 anni nell'aprile del 1995. Nella parte finale della sua carriera ha suonato spesso in trio con Gary Peacock e Tony Williams, con James Genus e Lewis Nash e ha inciso diversi dischi per la bluenote. I brani composti da Pullen mantengono sempre un chiaro istinto melodico pur nella forza espressiva del suo stile e nel rigore della sua visione estetica e generale. Questo forse è il punto centrale della figura del pianista, la sua abilità nel trovare una sintesi tra le intenzioni personali e i rimandi alle tante espressioni del jazz. Tecnica e cuore uniti in maniera creativa e funzionale in uno stile del tutto unico. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!